come gestire la mia collezione d'arte chi mi può aiutare come gustare il meglio della mia collezione la soluzione scopri l'app di arte generali noi ti aiutiamo a prenderti cura della tua collezione della tua assicurazione e di tutte le esigenze correlate che si tratti di un dipinto di una scultura o di un pezzo di antiquariato con arte generali la tua collezione è ben protetta con la nostra app la tua collezione è sempre con te la gestione della collezione a portata di click facile da usare integrata e sicura my collection vorresti la tua collezione sempre con te gestisci e goditi tutta la tua collezione d'arte dove e quando vuoi con my collection con pochi click puoi salvare e catalogare la tua collezione in my collection basta fare qualche foto descriverle e la tua collezione d'arte è aggiornata e questo non è tutto se hai bisogno di più informazioni di mercato in tempo reale sui tuoi artisti preferiti market trends ti offre informazioni utili sull'artista e la sua evoluzione sul mercato my evaluation vuoi sapere quanto vale la tua opera d'arte affida a my evaluation la valutazione delle tue opere in pochi click puoi far valutare qualsiasi tua opera d'arte dai nostri esperti riceverai in breve una valutazione realistica dei tuoi tesori d'arte semplice e affidabile senza dover spostare l'opera e in modo riservato my concierge come sarebbe una vita con meno stress e più gioia migliora la gestione della tua collezione con innumerevoli servizi legati all'arte una selezionata rete di esperti è a tua disposizione per accompagnare la tua passione per l'arte e per supportarti nelle attività di protezione valutazione conservazione e valorizzazione dei tuoi oggetti d'arte my claims e se succede il peggio e la tua opera viene rubata o danneggiata non ti preoccupare my claims se ne occuperà subito compila il modulo digitale e in pochi click ti aiuteremo a gestire la denuncia ti aiuteremo a gestire ove possibile gli effetti e il sinistro facile veloce personale e affidabile my documents vuoi organizzare in maniera accurate i tuoi documenti e renderli accessibili in qualsiasi momento con un solo clic my documents ti permette di organizzare anche i tuoi documenti relativi alla collezione che si tratti di contratti fatture o certificati potrete raccogliere tutto ciò di cui avete bisogno salvarlo in un unico luogo e consultarlo in pochi secondi my documents ti permette di archiviare tutti i tuoi documenti essenziali in maniera sicura e permanente collezionare arte significa godersi la propria passione noi ci occupiamo dei dettagli scarica l'app e goditi la tua collezione con arte generali